Salve, siamo qui ancora al GYC, stiamo intervistando vari rappresentanti di vari ministeri autosupportati che sono presenti qui a questo congresso e in questo momento siamo con Pablo Silva che è il direttore del ministerio If God Does Exist. Caro Pablo, raccontaci un po' del tuo ministerio, cosa fate e come siete nati. Questo ministerio è nato perché io avevo un problema da risolvere, non riuscivo a parlare con i miei colleghi di quello che io credevo e quello che facevo riuscivo a parlare con loro dei Pathfinder e di altre attività che facevo con la Chiesa ma non riuscivo a raggiungerli con il loro linguaggio nel nostro lavoro, sulla nostra attività. Quindi abbiamo cominciato a pensare che magari una questione potrebbe essere la migliore tool per riuscire in mente senza i filtri che hanno per la religione. E quindi abbiamo cominciato a pensare che iniziare l'argomento religione attraverso una domanda che avrebbe bypassato il filtro che la maggior parte delle persone mettono sul tema religione poteva essere un buon metodo. La domanda era semplice, questo è quello, cosa se Dio esiste? Un'opera domanda che abbiamo proposto. E allora abbiamo pensato a una domanda aperta, questa domanda e se Dio esistesse davvero poteva essere una buona domanda per cominciare. Nella nostra pubblicità come vedete dopo la domanda lateralmente c'è il sito web che è appunto www.ifgodexist.org che vuol dire se Dio esiste che poteva essere un buon punto per collegarli al nostro ministerio. E questo è il nostro progetto, lo scopo del nostro progetto è quello di raggiungere le persone che hanno una prevenzione nei confronti della religione e riuscire a parlare con loro dell'argomento religioso bypassando questo filtro. E noi stiamo distribuendo questi piccoli volantini in modo che le persone passano a regalarlo ai loro amici e le persone cominciano in questo modo a parlare di religione. Grazie per la vostra attenzione e per favore visitate il nostro sito web che spero presto possa essere anche in italiano. Grazie. Grazie. Grazie.